Noi dobbiamo essere lumi, luce. Luce è un po' la sintesi della puntata ultima, quella di ieri, con cui ci siamo salutati. Dobbiamo saper custodire questa luce che ci è stata affidata dal Signore nel momento in cui siamo nati. Ma la speranza si alimenta non solo di pace, di luce, di consapevolezza di avere un progetto nella vita, di avere un significato, un senso e mai di essere inutili. La speranza si alimenta di amore per l'altro, rispettando i tempi dell'altro. La sofferenza, i travagli degli altri. Il vero educatore, il vero, tra virgolette, maestro, è colui che sa attendere l'altro. E non colui che vuole che l'altro lo segua e percorra la via con il suo passo, i suoi ritmi, no. Il vero maestro, il vero educatore, il vero pedagogo è colui che sa attendere i tempi dell'altro, aiutandolo piano piano a scoprirsi come sogno di Dio, come progetto di Dio. Ed ecco la parola che oggi vorrei proporvi. La speranza si nutre di sogni. Ahimè. Sognare non è illudersi. Il sogno è qualcosa che viene di dentro. Ognuno di noi sogna per come è fatto dentro. Ognuno di noi sogna per come pensa la vita, per come pensa la sua relazione con Dio, per come vive questa relazione, per come vive la sua relazione con gli altri, con il mondo, con l'ambiente. Il sogno è la pagina più bella in cui ciascun uomo mette a nudo se stesso, chiedo scusa, e gli altri possono capire la mia profondità. Gli altri possono capire i miei sogni, le mie gioie, le mie difficoltà, le mie attese e le mie speranze. Sognare è un altro modo per alimentare la speranza. Ma sentiamo che cosa dice Francesco a proposito della speranza e del sogno. Dice soprattutto sogna. Abbiamo detto tante cose fino ad ora, però lui dice soprattutto sogna. Non aver paura di sognare. Sogna. Sogna un mondo che ancora non si vede, ma che di certo arriverà. La speranza ci porta a credere all'esistenza di una creazione che si estende fino al suo compimento definitivo. Quando Dio sarà tutto in tutti. Gli uomini capaci di immaginazione hanno regalato all'uomo scoperte scientifiche e tecnologiche. Hanno solcato gli oceani, hanno calcato terre che nessuno aveva accalpestato mai. Gli uomini che hanno coltivato speranze sono anche quelli che hanno vinto la schiavitù e portato migliori condizioni di vita su questa terra. Pensate a questi uomini. Ecco il nostro sogno. Uno dei nostri sogni è appunto non aver paura di sognare. Perché il sogno ci aiuta a essere noi stessi, a costruire un mondo così come Dio vuole. Cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio non è altro che il mondo che Dio ha pensato per l'umanità. La vita che Dio vuole per ciascuno di noi. Sognare è importante per alimentare la speranza. Tu sogni? Quali sono i tuoi sogni? Raccontameli domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti. Ciao a tutti.